Assessore al benessere animale Anarita Ottaviano, bando comunale per la sterilizzazione degli animali, diamo le info utili. Sì, è stato pubblicato dal nostro ente un bando per la sterilizzazione dei cani, rivolte ai cani padronali microcippati. Il bando è stato finanziato dalla regione Campania, dove il comune di Torre de Greco ha partecipato a un avviso ed è beneficiario di una somma pari a 15.000 euro. L'avviso è pubblicato sul sito, sull'albiettorio del nostro ente e i cittadini possono presentare domanda fino al 31 ottobre di quest'anno, fino alle ore 24. Quindi c'è tempo, ci abbiamo messo a disposizione per poter presentare domanda. Ovviamente il comune ha già individuato veterinari per poter praticare questo tipo di sterilizzazione. In cantiere, tante altre iniziative? Sì, sempre per il benessere dei nostri amici a quattro zampe abbiamo fatto un'ulteriore richiesta al laser per microcippare ulteriormente i cani padronali. Così come nel mese di maggio scorso abbiamo effettuato questa operazione sul territorio dove la risposta è stata positiva, oltre 100 cani una giornata, per il mese di ottobre e novembre abbiamo in cantiere un'ulteriore data per poter microcippare i cani.